Due settimane sono passate da quando il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palumba, ha zerato la giunta comunale. Ad oggi la città è ancora senza esecutivo. Con le nostre telecamere siamo andati nei corridoi di Palazzo Baronale per fare il punto della situazione con rappresentanti in maggioranza e opposizione. Da due settimane dall'azzeramento della giunta, Torre del Greco è ancora senza esecutivo. I cittadini sono preoccupati. Cosa sta succedendo? Come si sta procedendo? C'è un confronto serrato tra una parte della maggioranza che oggi si è riunita sotto la bandiera della federazione o confederazione, che riunisce ad oggi sette consiglieri di maggioranza e dall'altra parte ci sono altri gruppi politici, gruppi consigliari, che costituivano la maggioranza, che dico costituivano perché ad oggi con l'azzeramento della giunta ovviamente è tutto sul tappeto, che si stanno confrontando gli uni con gli altri per trovare una soluzione che possa essere quella accettabile sotto un profilo politico sempre funzionale ad un percorso amministrativo che comunque deve avere un'accelerata a prescindere dalle soluzioni che poi dopo saranno percorse o meno. L'obiettivo della federazione innanzitutto è il bene della città, quindi già siamo da troppo tempo nel limbo quindi sarebbe opportuno prendere immediatamente, anzi già è tardi, precauzioni e dare un risultato alla città. Considerato il momento particolare non si può più stare nel limbo e quindi bisogna trovare una soluzione immediata. La soluzione immediata è innanzitutto risolvere i problemi che ci attanaiano giorno per giorno. Non è stato semplice, non è semplice e sicuramente non sarà semplice. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare risposta alla città che finora sono state poche le risposte e le soddisfazioni e poi risolvere immediatamente quelli che sono i problemi fondamentali. Perché è così difficile a divenire una soluzione? Noi della federazione abbiamo proposto figure professionali, ora dobbiamo soltanto avere riscontro da parte dei dirigenti. Però ripeto non basta soltanto l'assessore di spicco, non basta soltanto la figura professionale ma il buon lavoro viene fatto soprattutto dai dirigenti. Quindi il risultato in città è un risultato che devono partorire i dirigenti. Questa situazione sta diventando sempre più paradossale perché quasi non si riesce nemmeno a comprendere i motivi della crisi ed è solo l'ennesima conferma di quanto questa maggioranza sia minimi termini e il rischio sempre più concreto che si trovi una quadra al ribasso con la paura e lo spettro di un semestre bianco in avvicinamento per la nostra città è un pericolo soprattutto alla luce della crisi sociale ed economica post-covid che questa città non si può permettere. Da cosa dipende questa situazione di stallo? Le motivazioni vere delle difficoltà non sono quelle che ha dichiarato il sindaco di azzerare la giunta per poter alzare il livello qualitativo dell'esecutivo ma è chiaro che nascondeva delle frizioni all'interno della maggioranza le cui motivazioni potrebbero essere immaginate ma le vere ragioni le conoscono solo loro. Forse si è arrivata anche al punto che ora è solo un braccio di ferro senza neanche più aver ben chiaro quali sono le motivazioni iniziali. Qual è una via di uscita? Abbiamo proposto che il sindaco facesse una giunta tecnica giusto per approvare un bilancio tecnico ed andare alle elezioni già in primavera. Noi siamo pronti a dire al sindaco stacca la spina perché il momento è così cruciale soprattutto in questa pandemia che stiamo vivendo non possiamo lasciare le persone così in balia. Grazie a tutti.